Il Consorzio di tutela Vini Colline Terramane ha presentato l'evento che si svolgerà a Teramo dal 2 al 7 marzo, dal titolo La Nostra Anteprima, la seconda edizione dell'anteprima della denominazione dedicata alla stampa di settore nazionale e internazionale e non solo. Sono oltre 30 i giornalisti dall'Italia e dall'estero attesi a Teramo e che il 2 marzo assaggeranno in anteprima le etichette di 25 tra le cantine socie del Consorzio di Colline Terramane Montepulciano d'Abruzzo di OCG. Questa è la seconda edizione dell'anteprima Colline Terramane. L'anteprima che cos'è? È la presentazione alla stampa, al pubblico degli appassionati, agli operatori economici delle annate più recenti, le annate che sono appena entrate in commercio, le annate che il disciplinare permette di mettere in commercio e che quindi oggi rappresentano la produzione più recente di Colline Terramane. Ed è un momento importante perché attraverso i vini si racconta un territorio e quindi ricevendo degli ospiti che vengono da fuori per acquisire storie, per conoscere posti, conoscere nuove realtà, questo è il momento oltre che per noi per raccontare i nostri vini e farne conoscere la qualità, anche per il territorio per presentarsi attraverso i vini. Infatti ci sarà anche un momento in cui porteremo questi ospiti in giro per il nostro territorio a visitare le varie cantine. Gli ultimi due anni non sono certo stati anni di crescita, ma sono stati anni di mantenimento o comunque di sussistenza. Negli ultimi 15 anni il Colline Terramane è andato crescendo, è andato acquisendo una sua visibilità e una sua collocazione all'interno del mercato, una sua riconoscibilità. Colline Terramane è uno dei vini dell'Abruzzo, ha avuto il riconoscimento di DOCG che è il riconoscimento più prestigioso, resta una delle facce della pietra preziosa che è l'Abruzzo che serve proprio per impreziosire ulteriormente quello che è il patrimonio del nostro territorio a cui tutti siamo debitori.